La situazione è sempre più drammatica, quindi attenzione, attenzione a quello che succede sull'ambiente, attenzione a quello che succede nella sanità, situazione difficile. Ho detto subito, emergenza sanità in Sicilia, tra l'altro adesso non so perché ho cercato anche di lanciare un appello. L'emergenza siccità in Sicilia dimostra che siamo di fronte a una situazione grave. È gennaio, a gennaio in Sicilia si raziona l'acqua in 50 comuni. Vi rendete conto che significa? Razionamento dell'acqua in 50 comuni della Sicilia a gennaio. Questi sono i mesi dove in genere piove, dove in genere c'è disponibilità di acqua e l'estate il periodo siccitoso, tutt'al più un pezzettino della fine della primavera. La situazione è difficile e voi sapete cosa succede in Sicilia? Che ci sono un sacco di invasi molto grandi che raccolgono l'acqua, ma non ci sono i collegamenti per portare l'acqua negli acquedotti o dove serve per irrigazione e per altre cose. Di cosa si pensa e si parla in Sicilia? Si parla del ponte sullo stretto. Si parla del ponte sullo stretto mentre abbiamo una palese emergenza idrica. La Sicilia è in crisi e non si parla di queste cose. Stiamo parlando della Ferragni, parliamo dei temi di fede, parliamo degli influencer che sono una cosa importante. D'altra parte parlando anche qui sul web stiamo parlando sul digitale, sui social, ma non è possibile che si usino i mezzi di comunicazione per mezzi di distrazione di massa invece che comunicare le cose. La Sicilia è in allarme siccità a gennaio, questo è il dato. Cosa succederà nei prossimi giorni? E invece di parlare di come dare l'acqua, l'acqua potabile ai cittadini della Sicilia, gli si promette il ponte nel 2050, non si sa quanto. E l'altra emergenza, io oggi lancio questi due allarmi perché poi ci sarebbero tanti temi da discutere, ma io ve li lascio perché potete vedere con calma la diretta, potete capire le cose, io voglio lasciare testimonianza. Soprattutto del fatto che anche oggi si parla di morti per polmoniti, di situazioni difficili, di emergenza e guardate abbiamo un inverno tutto sommato mite, anzi troppo caldo perché anche questo è un effetto del cambiamento climatico e ne vedremo le conseguenze e le vediamo già con la siccità in Sicilia. Ebbene, con questa situazione che abbiamo, nonostante questo abbiamo dei picchi influenzali assurdi. Abbiamo il livello di influenza più grave degli ultimi 15 anni, abbiamo una situazione che vede i pronto soccorsi italiani pieni di pazienti, una situazione difficilissima in tutte le strutture ospedaliere, abbiamo gli anziani in grande difficoltà, abbiamo una vera e propria epidemia di polmonite, oltre che l'influenza suina, oltre che il Covid, quindi abbiamo tutta una serie di situazioni, i virologi tipo Bassetti, ve l'ho detto ieri, ma altri si stanno aggiungendo, che dicono che non è stata fatta nessuna campagna di prevenzione, nessuna azione di attenzione alle persone più fragili, a quelle più in difficoltà, ma dove stiamo andando? Ma quale modalità è questa di governare un paese? Oggi si sono incontrati Meloni, Salvini e Tajani, si dice che avrebbero parlato del tema delle elezioni regionali, ma loro per far vedere che parlano dei temi nobili, non si sa quali sono, hanno detto che hanno parlato invece dei migranti, che oggi non so se questa è una priorità, gli ospedali sono pieni di gente, in difficoltà, i virologi dicono che il governo non ha fatto nulla per prevenire la diffusione di epidemie di influenza e di fronte a questo, visto che si vedono una mezza parola sulla salute dei cittadini, una mezza parola su questi temi, ma ci sta o no? o è possibile che non si parli di queste cose? Io lo ritengo molto grave, ritengo molto grave che i grandi problemi della vita quotidiana delle persone, poi ci sta i prezzi, gli aumenti dei prezzi, eccetera, ma la sanità, la salute pubblica è o no una preoccupazione fondamentale per un governo, ma è possibile che i virologi parlano, tutti criticano, si dice che la situazione è drammatica, gli ospedali sono ingolfati, ci sono le file di barelle dentro i pronto soccorso perché le persone non trovano posti nelle degenze, eccetera, e in tutto questo silenzio, di questa cosa non si parla, ieri l'ho detto già una volta, il Ministro della Sanità, molti, ieri qualcuno ha finalmente andato a guardare su internet chi era il Ministro della Sanità e quindi ha capito chi era, ma non si registra nessuna azione e come vedete anche noi su queste dirette siamo poco attenti a questo tema, cioè il tema della salute della gente, dell'ennesimi morti per polmoniti, degli allarmi, eccetera, sono sottaciuti, non vengono, nessuno ne parla, è una cosa veramente che mi lascia basito. E poi c'è questo grande tema della siccità che oggi esplode, e guardate stiamo parlando di gennaio, gennaio, se a gennaio c'è la siccità in Sicilia, a gennaio, che cosa avremo nei prossimi mesi? E prevediamo qualcosa? Nulla. Stiamo semplicemente lasciando andare una situazione che è difficile, che è difficile, e che tutte le previsioni dicono complicata, perché addirittura adesso ci sarà un po' di freddo questo weekend, ma le previsioni sono che dopo arriva già, come dire, una situazione di clima mite. Questo va bene, potrebbe andare bene eventualmente per ridurre i picchi influenzali, ma come vediamo la situazione dell'influenza aumenta nonostante i picchi perché nessuno ha gestito nulla, ma nel frattempo significa che la situazione della nostra agricoltura, del nostro paese sarà difficilissima. La siccità a gennaio è quello che dovrebbe essere il vertice tra Meloni, Salvini e Tajani. Gli ospedali pieni di gente, pieni di gente che sta aspettando dentro il pronto soccorso perché non trovano posto, perché non vengono assistiti, ma vi rendete conto, questi sarebbero i temi, e invece noi parliamo del Pandoro e ancora della Ferrange, dappertutto si parla del Pandoro e della Fendai, poi nel tempo libero di qualche altra cazzata benemerita, e mentre un virologo come Bassetti accusa che il sistema sanitario non ha fatto niente, sta facendo niente per la prevenzione rispetto al picco influenzale e al disastro dell'epidemia di polmoniti. Ma è mai possibile che nessuno ne parla? È mai possibile che voi, che mi state ascoltando, non rilanciate questo, dovete rilanciarlo, dovete rilanciare il fatto di chiedere al governo, ma scusate, ma com'è tutte queste morti per polmoniti? Come mai? E perché non avete fatto la campagna vaccinale sui vaccini? Quelli giusti, quelli che vengono fatti ogni anno ma in modo adeguato perché sono testati da una vita, mentre le preoccupazioni legittime e non legittime che c'erano sul Covid sono preoccupazioni che avevano una loro ragione. Poi magari possiamo dire che era comunque meglio vaccinarsi, io sono di quelli che si è vaccinato, ma si poteva discutere. Ma qua stiamo parlando dei vaccini per l'influenza che sono tradizionali, che si fanno da sempre, che almeno agli anziani il governo doveva sollecitare fortemente che si facessero, invece non hanno fatto niente e stiamo assistendo a tante morti per polmoniti e tutti lanciano gli allarmi dagli ospedali se li sentite, ma il governo non ne parla, il governo è completamente fuori di testa, qualche giorno ha detto che nei prossimi anni l'estate arriverà in febbraio, questo è un altro tipo di problema giustamente, nel senso che non è che l'estate arriverà in febbraio, di fatto il clima sta cambiando, oggi l'emergenza siccità in Sicilia a gennaio significa potenzialmente una situazione disastrosa e ripeto, proprio oggi ho fatto una riunione sull'acqua, sulla distribuzione dell'acqua, sulle risorse idriche eccetera e cosa è accaduto? Stavamo discutendo del fatto che in Sicilia ci sono gli invasi, ma guarda caso non ci sono i canali che portano l'acqua dagli invasi agli utilizzatori, quindi agli acquedotti, all'agricoltura, allora c'è l'allarme siccità, si parla del ponte sullo stretto, si spendono e si bloccano risorse per i prossimi anni sul ponte sullo stretto e non si fa nulla per garantire l'acqua ai cittadini, in 50 comuni d'acqua è razionata nel 2024, di questo stiamo parlando, acqua è razionata nei comuni della Sicilia nel 2024 e chiacchiere a vacante, come si dice dalle parti mie, sul ponte, si parla del ponte, si parla del ponte e poi non si fa nulla, il tema del cambiamento climatico è evidente, infatti si sapeva ma non si interviene e il vertice che fa il centrodestra lo fa sui migranti, perché come al solito devono allertare le persone sul rischio dei migranti, mentre intanto non riescono a garantire l'acqua, la sanità è in crisi, non hanno fatto fare le campagne di prevenzione per le persone più fragili e per gli anziani e allora non rispondono di questo e si preparano a lanciare ulteriori allarmi su cose che non ci azzeccano, perché è evidente che il tema oggi non è l'emergenza migranti o no? E soprattutto loro sull'emergenza migranti non sono stati capaci di fare niente e gli sbarchi sono raddoppiati in un anno, ma di che stiamo parlando? Ma se fosse stato al governo Conte cosa avrebbe, dove si sarebbe incatenata l'opposizione che oggi invece sta al governo? Se c'erano gli sbarchi, che succedeva? Lira di Dio, ogni volta che c'era qualcosa era una sceneggiata incredibile, ora la gente muore per polmonite, c'è un'epidemia influenziale la peggiore di 15 anni, i virologi dicono che hanno fatto una campagna vaccinale disastrosa e tutti stanno zitti, ma i giornalisti dove, caspita, stanno? Ma la capacità di inchieste serie, di informazione corretta ai cittadini, ma dov'è? Ma dov'è? Il dibattito è sul Pandoro. Poi nel tempo libero su altre cose certamente gravi, che sono le varie vicende di membri del governo delle destre che riesce a fare dei guai ogni volta, personaggi al governo, non dico tutti perché qualcuno cerca anche di fare qualcosa, ma prevalentemente molti personaggi surreali. Poi si aggiunge il saluto fascista, tutte cose del passato remoto e noi siamo costretti a parlare di gente nostalgica che neanche sa di cosa è nostalgica. Sono sceneggiate mentre nei pronto soccorso ci sono le barelle con le persone che non trovano posto perché intanto hanno tagliato i posti letto, hanno ridotto il personale, non hanno fatto una campagna di prevenzione, non c'è nessuna assistenza territoriale che previene il fatto che tutti debbano andare al pronto soccorso, ma di questo non parlano, di questo non si parla. Ma io sono sorpreso, sconvolto anzi, perché dico ma scusate, ma quando c'erano Conte e Speranza, nel bene o nel male, si discuteva dei temi della sanità, chi era critico, chi non era critico, ma almeno se ne parlava. Adesso dov'è il ministro della sanità? Con l'emergenza che c'è in atto, dov'è il ministro della sanità? Dove è il ministro della sanità? Che cosa stanno facendo? Avete visto oggi un'altra personalità, ogni tanto qualcuno, poi adesso si parla, prima si parlava allora, un giorno è la polmonite, epidemia di polmonite, un altro giorno è l'epidemia della peste, dell'influenza suina, un altro giorno si dice che è una recrudescenza del covid, ma sembra di stare, come dire, al manicomio, nel senso che non c'è nemmeno chiarezza su quali stanno, quali sono le condizioni reali dell'emergenza sanitaria. Quindi oggi vi ho detto due temi e vi chiedo di dare evidenza e di raccontare che c'è, un'emergenza sanitaria. E c'è già l'emergenza siccità all'inizio di gennaio e questi non stanno facendo niente. Avevano annunciato, hanno fatto il commissario alla siccità. Anche un bravo signore. Ma poi gli danno gli strumenti per fare qualcosa. O se i soldi poi gli dai per il ponte sullo stretto, 12 miliardi, peraltro dando l'incarico senza un bando, criticato dall'autorità anticorruzione. Quindi ci saranno inchieste, ci saranno ritardi, ci saranno arresti. Perché è così? Perché sono vicende gestite male e che proseguono peggio. E nello stesso tempo, nella stessa Sicilia dove si parla del ponte, tu hai l'emergenza siccità a gennaio. A gennaio. Cioè in uno dei mesi dell'inverno dove in realtà avresti piogge e nevicate. Perché il clima è cambiato? L'avete capito che è cambiato il clima? L'avete capito che c'è un'emergenza climatica? Avete capito che dovete fare i collegamenti con gli invasi in Sicilia per far avere l'acqua? E che bisogna raccogliere l'acqua quando ci sono le alluvioni, i grandi rovesci e poi distribuirla quando ci sarà siccità perché avremo sempre più alluvioni in siccità? Avete capito che è cambiato il clima? Io personalmente ve lo sto dicendo addirittura dal 2007 che feci la conferenza sui cambiamenti, in realtà anche da prima. Però nel 2007 in modo ufficiale la conferenza sui cambiamenti, sul clima, sull'adattamento al cambiamento climatico, che significava quale cose fare per evitare i morti, per evitare danni economici, per evitare il disastro che il cambiamento climatico può portare con sé. Perché il cambiamento climatico grave porta a un problema enorme. Con la siccità sono caduti gli imperi, sono caduti gli stati, sono cadute le civiltà. Un anno di siccità continua può devastare il sistema economico di un paese. Vi è chiaro, anche in Romania c'è l'epidemia di polmonite, ma c'è in giro una serie, anche col clima che è cambiato, ci sono in giro nuovi virus, nuovi patogeni che riguardano l'agricoltura e che riguardano le persone. A cosa servono i governi? Servono a fare quelle cose che singolarmente il singolo cittadino non può fare. Perché se no non c'è bisogno di un governo, ognuno fa quello che può fare. No! Il governo, lo Stato, le strutture pubbliche servono a guardare in prospettiva, a mettere insieme le risorse e le forze che il singolo cittadino non può fare e a cercare di contrastare e ridurre almeno i rischi. Allora, se Bassetti, che è un virologo sicuramente, non è un virologo di parte, e se è di parte sicuramente non è di parte contro il governo, se lui dice che è stato un disastro, un disastro, un disastro, il governo è quello che sta facendo, qualcuno si interroga di che cosa stanno facendo o no. Io oggi vi ho detto due emergenze e vi voglio sollecitare non a riflettere, ma anche a essere attivi su queste cose, perché se voi capite potete trasmettere, se non capite non trasmettete niente. Allora, il tema è emergenza e sanità. Cosa sta accadendo? Un aumento di una serie di patologie legate anche al clima, ma in parte legate anche ad altro, che sono previste, prevedibili. Infatti Bassetti cosa ha detto? Era ampiamente previsto il numero di morti che si potevano avere se non si interveniva. Non si è intervenuto. Adesso qualcuno verificherà i danni che ha fatto questo governo alle persone che si sono trovate in questo dramma? Questo è. Ecco qua, dice Letizia, sto da una settimana a letto e non mi molla l'influenza. questo governo pensa solo ai suoi interessi e non contrasta niente. Dite quello che poi è il buon senso comune. L'altro tema che vi ho detto, emergenza climatica. L'emergenza climatica è una cosa ormai evidente e io sono anche stanco della gente che mi dice Ah, Alfonso, ma avevi ragione. Tu me lo dicono ministri, me lo dicono parlamentari, me lo dicono persone che mi hanno rotto le scatole accusandomi che ero troppo eccessivo, che quando ho fatto la conferenza sul clima, quella del governo che ero ministro, avevo esagerato a dire che ci sarebbe stato un surriscaldamento del mare mediterraneo e c'è stato. Le bombe d'acqua e ci sono state. La siccità e c'è stata. E cosa chiedevo? Modestamente di cercare di fare una serie di interventi per migliorare gli invasi e cercare di evitare la siccità, cercare di fare la lotta al dissesto idrogeologico per evitare che le frane si portassero appresso le case e le persone. Cioè cose normali, normali, cioè di buon governo, perché si può fare pure il buon governo, non è che si fa solo il mal governo, e cercando di fare cose giuste. Io, almeno dal mio punto di vista. Quindi questa campagna io la continuerò a fare perché è giusta, ovviamente sapendo che purtroppo noi siamo abituati, quando c'è il disastro tutti, vi mettete anche su internet, dicono che è successo. Quando si avvisa che ci possono essere problemi e siamo ancora in tempo per prevenirli e non c'è attenzione. Questo riguarda il modo di essere di essere umani. Però l'intelligenza serve, non quella artificiale, quella umana, serve a capire che ci possono essere dei problemi e cerchiamo di risolvere. Questo dobbiamo fare. E io vi chiedo di diffondere questi elementi di civiltà normale. Quindi l'emergenza climatica c'è? Bene. Bisogna investire i soldi. Per esempio, oggi abbiamo detto il caso Sicilia. La Sicilia ha 50 comuni dove hanno razionato l'acqua, quindi l'acqua non ce l'hai fissa, per essere chiari. Questo significa razionato. Poi hanno gli invasi, c'è l'acqua, negli invasi c'è l'acqua, ma non hanno fatto le condutture per portare l'acqua e quindi non serve a niente, perché tu hai gli invasi. E poi? Non si sa che fare. Mi chiameranno Nostradamus, se ne fa bene a scherzare, perché effettivamente non è che ci vuole tanto a capire che non c'è bisogno di Nostradamus. Infatti io dico sempre che non sono mago. Io vedevo quello che dicevano i tecnici, gli scienziati, gli esperti, le persone che collaboravano con me. Io al ministero avevo anche persone di qualità che addirittura gratuitamente, Jeremy Rifkin, economista americano, Carlo Rubbia, che allora era uno dei migliori nostri premi Nobel su materie anche economiche, il compianto professor Stefano Rodotà, una persona, un giurista autorevole. Tutte persone, queste ma tanti altri poi, gli esperti delle Nazioni Unite, che mi davano? Informazioni utili. Informazioni utili perché non è che un ministro è onnisciente e deve sapere tutto. No, deve affidarsi però a persone che sceglie in modo oculato per capire quali possono essere i problemi e come aiutare un paese a stare meglio invece che peggio. Questo è proprio semplice, semplice, semplice. Se lavori per il bene comune, se lavori per i cazzi di questo, quello, quell'altro gruppo di potere e allora fai un'altra attività, ma quella non è un'attività politica, quella è affarismo, è un'altra parima. Allora, il tema è che qua bisogna intervenire e lo dovremmo fare per forza. Il tema è quando lo facciamo. Prima ci muoviamo a fare opere di prevenzione per i danni del cambiamento climatico, più salviamo vite umane e persone. Questa è la verità. Allora, io vi saluto perché, come dire, ero incerto se fare la diretta perché poi quando devi lanciare argomenti che non sono l'attualità del giorno, cioè se parliamo del fatto del giorno, siamo tutti contenti, parliamo, commentiamo. Quando invece facciamo previsioni, ma previsioni non complicate perché oggi l'evento del giorno c'è, visto che la Sicilia è già in siccità, però perché non ci riguarda direttamente, noi apriamo l'acqua e l'acqua ce l'abbiamo a casa, ce ne importiamo niente. Certo, se non avessimo l'acqua in tutta Italia vedreste che oggi saremmo tutti scatenati come i pazzi, ma non bisogna aspettare il disastro per intervenire. Bisogna avere una capacità, soprattutto i dirigenti non dovrebbero aspettare il disastro, perché tutti abbiamo gli strumenti oggi per sapere che alcune previsioni si avvereranno. Non è una ipotesi, è quanto diventa veloce, quanto diventa rilevante, ma il cambiamento è in atto, ma ve ne accorgete che stiamo avendo un inverno senza inverno o non ve ne rendete conto? Fatemi capire. Bastano due gocce d'acqua e un po' di freddo e pensate che è inverno? O avete capito che è avuto un dicembre senza inverno e che stiamo andando in un gennaio che dalla settimana prossima è annunciato climamite a gennaio? Poi avremo magari di nuovo una botta di freddo, magari nei giorni della merla per farci ricordare che esistono ancora i giorni della merla, ma di fatto è già cambiato e allora è chiaro che significa che avremo siccità e dobbiamo fare degli strumenti per risparmiare l'acqua, per esempio, per averne a disposizione abbastanza, per aiutare l'agricoltura ad avere acqua perché senza acqua se no non abbiamo anche i prodotti agricoli e non mangiamo, cioè vi rendete conto di cosa stiamo parlando? Che è un problema rilevante o no? O è più rilevante il pandoro della Ferragni? Ecco questo per domandare, è più importante il pandoro della Ferragni? Lascia stare se ha fatto bene, ha fatto male, non voglio proprio entrare, l'inchiesta la fa la magistratura, però il tema, dico, la siccità rischia di mandare a, come dire, in disgrazia l'agricoltura del paese, rischia di creare un disastro nel nostro paese, avete capito? E invece noi abbiamo Salvini che parla del ponte, parla del ponte, parla del ponte, che non si sa quando ci sarà, e intanto la siccità c'è oggi, no? Il sesso ideologico, le frane, le alluvioni ci sono oggi, l'Inghilterra è stata travolta da un'alluvione record e purtroppo il clima sta cambiando così, questo è. Comunque, intanto vi do una buona serata, il cambiamento è in atto, in casa 17 gradi, quando mai, eccetera. Va bene, allora, io vi saluto tutti, vi ringrazio quelli che seguono, vi chiedo di condividere, almeno le parti che condividete, che pensate giuste, perché l'azione che va fatta è, come dire, un pezzo alla volta e ognuno che continua a parlare con tutti, aumenta la capacità di informazione e anche di costruzione di una coscienza collettiva, perché abbiamo la necessità di accelerare, di usare anche i social, invece che per raccontare frottole o insultare la gente, come spesso avviene, per dire elementi di consapevolezza, questo è il lavoro. Buona serata a tutti quanti, ciao ciao.